Buonasera e benvenuti al TG7 Basilicata. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato dopo aver messo i domiciliari un uomo di Matera. Si tratta di un 55enne già sottoposto al divieto di dimora sempre nel comune di Matera. Nei primi giorni di giugno l'uomo, un pluripro giudicato, aveva violentamente picchiato un anziano suo vicino di casa per futili motivi. L'anziano aveva riportato lesioni varie, una prognosi di 40 giorni. Nonostante tra le prescrizioni che erano state imposte all'uomo ci fosse quella di non fare più ingresso nel territorio di Matera, in diverse occasioni l'uomo le aveva violate. Pertanto l'indagato, non mostrando alcun rispetto per le prescrizioni, ha portato il GIP a disporne la traduzione in carcere. I vigili del fuoco di potenza sono intervenuti a ruoti per un incendio di un fienile e sono arrivati in contrada a Caivano, trovandosi di fronte a un deposito di balle e di fieno completamente avvolto dalle fiamme. L'operazione di spegnimento è servita soprattutto a contenere l'incendio, evitando la propagazione a strutture presenti in zona. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi, ecco, autopompe, autobotti in fuoristrada per un totale di sette unità. La redattrice dell'Università di Basilicata in una nota ringrazia a tutti per gli ottimi risultati conseguiti. Oggi sono molto emozionata, dice, chiudo il mio mandato con un risultato storico per il nostro Ateneo, l'avvio del percorso di istruzione e del corso di laurea in medicina all'Università degli Studi della Basilicata. L'Ateneo prosegue nel suo progetto di crescita, 40 anni dal terribile evento che ne ha segnato, la nascita. Si tratta di una straordinaria opportunità per la nostra comunità regionale e per l'intero mezzogiorno. L'investimento in ricerca e in alta formazione evidenzia non a caso la lungimiranza politica delle istituzioni coinvolte, perché fra i tutti il diritto al sapere e alla salute rappresentano la cornice, conclude, coesiva di ogni società. In occasione del primo anniversario della morte di Elis Petti, la giovane donna nigeriana avvenuta il 7 agosto del 2019, che pagò il prezzo del dover vivere in condizioni disumane bruciando un errogo che sconvolse l'ex ghetto della felandina Altra Agricoltura, il coordinamento braccianti della felandina e il forum Terre di Dignità invitano a presenziare la cerimonia di commemorazione che avrà luogo venerdì 7 agosto alle ore 16 e 15 presso il cimitero di Bernalda. Al raccoglimento presso la tomba in cui riposa Elis parteciperà fra gli altri una delegazione del coordinamento braccianti della felandina nato nei giorni della mobilitazione di agosto scorso, che continua a seguire queste vicende legate tra l'altro a tanti lavoratori migranti dispersi all'indomani dello sgombero senza che a tutt'oggi abbiano avuto risposte alle stanze di avere una condizione di ospitalità dignitosa dalle istituzioni. A quel paese si continua a sognare, Colobraro è più forte della IEL anche del Covid, la decima edizione del meraviglioso viaggio tra magico e fantastico e pronta a regalare un nuovo sogno. Il paese della magia tutti i venerdì del mese di agosto 7, 14, 21 e 28 agosto è infatti pronto ad accogliere turisti e visitatori per vivere insieme un nuovo sogno di una notte a quel paese. Anche per l'anno 2020 assicura il sindaco o Andrea Bernardo inonizzeremo su superstizione, maciare, fattucchiere, pettegole, buontemponi e monachicchi. Vi racconteremo storie d'armi e d'amore attualizzate ai tempi del Covid. Ovviamente, ancora di più, in quest'anno business stile funesto prosegue, non potrete mancare anche per ritirare il tipico muleto, antimalocchio, portafortuna di Colobraro, l'abitino. Ecco, per questa sera è davvero tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento domani.